1, 2, 3 Partecipare alle cartoniadi è semplice. Basta separare correttamente più carte e cartone che nel passato. Chi fa meglio vince. In paglio 22.000 euro messi a disposizione da Comieco. Chi raccolte più carta avrà un premio. I ragazzi sono stati coinvolti in modo fattivo, hanno partecipato con grande entusiasmo. Serve per sprecare meno energia, per fare nuova carta e per non sprecare alberi, tagliare alberi. Noi commercianti abbiamo tutti il nostro sacchetto giallo di plastica della Cartesio. Raccogliamo internamente le nostre carte, già dividendo cartone, carta di giornale e quant'altro. Ora, guardate che ben di Dio di roba. Quest'anno vogliamo vincere noi le cartonieri. E speriamo che la nostra scuola vincca. Secondo voi, quale sarà il destino di questo poveretto? Se separi carta e cartone alla mia scuola, fai un regalone. Quando usciamo andiamo in quartieri dove c'è molto pubblico. E almeno loro contribuiscono a questo reciclo. Raccolta differenziata, secchio del cartone. E vedrete che sarà un risparmio, un guadagno e soprattutto un buon gesto per la natura e per la città. Grazie.